Il 29 settembre si celebra San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Come ogni anno, nella mattinata si è tenuta una santa messa presso la chiesa parrocchiale del Gesù di Via Borgoleoni. Presenti le massime autorità in una cerimonia ufficiata da Monsignor Paolo Valenti, dove si è ricordato il ruolo centrale che ricopre ancora oggi la Polizia di Stato a 169 anni dalla sua fondazione. A prendere la parola al termine della santa messa è stato il questore Cesare Capocasa, che ha ricordato il lavoro portato avanti quotidianamente per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, anche in un periodo difficile, qual è stato quello dell'ultimo anno e mezzo, con una pandemia che ha condizionato comportamenti e abitudini. Esprimendo le condoglianze per tutte le vittime, il questore ha ricordato i sacrifici e le difficoltà dell'intero corpo, che ha tenuto fede alla propria missione. E proprio sul ruolo integerrimo di chi indossa la divisa, ha sottolineato la trasparenza dell'agire alla base di tutto, tanto che chi sbaglia deve rispondere con rigore. Numerose le persone, pur con gli accessi contingentati a causa della pandemia, che hanno voluto mostrare la propria vicinanza alla Polizia e al ruolo che riveste nella vita quotidiana di tutti.